Perché lanciarti in questo corso gratuito di Colazione da Tiffany, un ukulele per sempre? Io te lo consiglio perché non è il classico approccio standard all'ukulele, per cui non ti aspettare di dover lavorare ogni giorno, prenderlo e metterti lì con la tecnica, se no non arriverai a suonare. Colazione da Tiffany è un corso che ti guiderà veramente piano piano e secondo i tuoi ritmi a scoprire qual è il tuo modo di suonare l'ukulele e in che modo puoi portarlo nella tua vita. E questo credo sia un grande valore aggiunto per la nostra società, più ukuleli per tutti. È fondamentale che tu ti approcci a questo corso esattamente in questo modo, perché altrimenti andare in frustrazione, soprattutto quando siamo adulti e vogliamo imparare a suonare uno strumento, è proprio lì al confine sempre. Io voglio che lo superiamo questo confine e che non ti faccia più paura imparare a suonare uno strumento.